passare alla predicazione della parola di dio poi avremo ancora un momento di preghiera dove presenteremo le nostre richieste vogliamo per ora concentrarci nella parola del signore leggeremo dalla prima lettera ai corinzi al capitolo 10 i primi 13 versi questi versi sono un grande monito per ogni credente e credo che ciascuno di noi dovrebbe meditarli con attenzione per riflettere su quale sia il vero significato dell'essere credenti e chi deve essere al centro della nostra esistenza e quale sia il piano che dio ha per ogni uomo che si dichiara credente leggiamo dunque prima corinzi capitolo 10 leggeremo i primi 13 versi fratelli non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di mosè tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevero la stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva e la roccia era cristo ma della maggior parte di loro dio non si compiacque poiché furono abbattuti nel deserto ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose malvagie come lo furono costoro e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro secondo quanto è scritto il popolo si sedette per mangiare e per bere poi salzò per divertirsi non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo ventitremila non tentiamo il signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti e non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore ora queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per nostra munizione che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere nessuna tentazione vi accolti che non sia stata umana ma dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne affinché la possiate sopportare sono parole forti quelle che l'apostolo paolo indirizza ai corinzi e sono parole che suonano come un monito importante e che ci fanno riflettere perché ci fanno riflettere perché queste parole le indirizza paolo alla chiesa prendendo esempio dall'antico testamento facendo riferimento a quanto il popolo di dio aveva compiuto e quanto avvenne al popolo di dio a causa della loro disobbedienza a causa della loro ribellione a causa della loro ostinazione a compiere il male dico perché è interessante è interessante perché si parla sempre e comunque del popolo di dio sia nell'antico testamento e ancora di più l'apostolo paolo si riferisce alla chiesa del signore riscattata dal sangue di cristo eppure ciò che dice fa in qualche modo tremare il cuore perché perché l'apostolo parla di esperienze gloriose che tutti quanti noi avremmo voluto vivere chi non avrebbe voluto vedere il proprio cammino accompagnato dalla nuvola o dal fuoco o il mar rosso aprirsi dinanzi a noi e vedere dio combattere con potenza a fianco del suo popolo al punto che poi ottenuta quella liberazione israele si mise veramente a festeggiare con grande giubilo era ancora accompagnato nel deserto vide la provvidenza di dio sempre essere presente il cibo pioveva dal cielo quotidianamente e un miracolo si rinnovava ogni giorno e quando ebbero sete la roccia fece scaturire l'acqua proprio per poter dissetare il popolo la gloria di dio si manifestò in maniera meravigliosa eppure della maggior parte di loro dio non si compiacque e quando dio dice che non si compiace e la cosa è seria perché perché essi perirono nel deserto a causa degli oltraggi resi a dio ora per noi questo è molto importante è importantissimo perché perché quanto la parola di dio afferma al verso 5 ma della maggior parte di loro dio non si compiacque apre dinanzi a noi che siamo credenti una realtà che ci deve spingere a riflettere dio vuole compiacersi nella tua vita questo è lo scopo per il quale tu sei stato creato e per il quale in cristo dio ha stabilito la redenzione per ogni uomo cosa intendo dire intendo dire che la nostra esistenza è stata concepita da dio perché egli sin da principio ha voluto compiacersi in noi ora so nella mente dell'uomo distorta dal peccato questo è quasi uno scandalo perché perché la ribellione vive nell'uomo e ognuno vuole vivere per conto proprio ognuno si sente padrone della propria esistenza e ognuno vuole vivere come ha deciso lui ma è questa la ribellione perché noi non veniamo da noi stessi ma siamo stati creati da da dio e vi faccio un esempio per capire quanto sia folle la nostra il pensiero dell'uomo quando non accetta l'idea che dovrebbe vivere per compiacere dio ora quanti in mezzo a noi hanno dei figli alzate la mano siete in tanti perché avete dei figli per quale ragione li avete voluti perché facessero quello che gli pareva a prescindere da quello che voi volete no perché vivessero la loro vita indipendentemente da quello che voi pensate volete o dall'educazione che gli volevate impartire o li avete voluti per compiacervi in loro non è questo quando si stringe un bambino piccolino come ce ne sono qui no tra le braccia è quasi inevitabile stringerlo e continuamente manifestare gli affetto con un bacio con un abbraccio con un vezzo non è così perché la madre trova il suo compiacimento nel figlio ma non solo quando è piccolino e lo stringe tra le braccia completamente dipendente da da lei ma anche quando cresce infatti i genitori e mi auguro che tra noi tutti facciano così sanno essere anche rigidi nell'educazione perché perché ci sono atteggiamenti che non volete che essi prendano perché non vi compiacciano è giusto o no quindi voi dai vostri figli volete che essi è vero o no simona è così che essi abbiano un indirizzo ben preciso e che vivano secondo un progetto ben chiaro che è nella vostra mente che non è coercitivo nel senso che volete togliergli la libertà ma nel quale in questo disegno che avete per loro voi possiate trovare il vostro compiacimento quindi non è strano che dio ci abbia creati per il suo compiacimento non mi sembra strano né tantomeno che avendoci redenti in cristo e gli voglia santificarci cioè educarci trasformarci all'immagine di colui che lo ha compiaciuto perfettamente che è cristo gesù ma questo allora ci mette dinanzi una responsabilità come credenti che è grandissima io non so quante volte vi ho detto che la religione non serve a nulla ma che la relazione con dio e ogni cosa è vero o no e voi scoprite che quando avete una relazione con qualcuno il vostro modo di comportarvi è fondamentale se ci tenete a quella relazione è inevitabile se io ho una relazione di amicizia con qualcuno tra voi non posso pensare di essere sleale bugiardo o di tradire la fiducia che mi è accordata perché quella relazione quanto dura niente e quindi se noi comprendiamo che la nostra vita con cristo è una relazione con una persona divina e allora ci rendiamo conto che la nostra fede l'espressione della nostra fede è compiacere l'esempio perfetto che noi abbiamo nella parola di dio cristo gesù ci insegna questo leggiavamo all'inizio di questo culto l'episodio del battesimo di gesù ma si ripete la stessa cosa anche in altre circostanze come sul monte della trasfigurazione dio dal cielo disse questi il mio diletto figliolo in lui mi sono compiaciuto quindi cristo rappresenta l'esempio perfetto cosa significa amare dio guardate cristo cosa fece con il padre cosa significa essere credenti riguardiamo a cristo e comprendiamo il modo in cui dobbiamo essere in questa vita perché vivo come spendo la mia vita quali sono le scelte che dovrei fare quelle che dovrei rifiutare il mondo ci insegna fai le scelte che ti danno gioia e rifiuta quelle che non ti garbano il mondo ragiona così e infatti il popolo di dio ragionò a questo modo cominciò a fare nel deserto quello che gli pareva e gli piaceva di questo mosè non sappiamo che cosa ne è stato sono 40 giorni e 40 notti che ormai è sul monte aronne facciamo un vitello d'oro festeggiamo divertiamoci e poi lasciamoci andare ad ogni desiderio della carne ma sì tanto o dio l'eterno o un vitello d'oro per loro era la stessa cosa e vedete il problema dove sta sta che a volte il credente dice di servire lì dio tre volte santo ma si comporta come se avesse davanti un vitello d'oro cosa intendo dire intendo dire che che la vita non è tua la vita non è mia io non faccio ciò che voglio io ho imparato a desiderare ciò che dio vuole riesco a spiegarmi il popolo seguiva il proprio cuore no questo non è essere cristiani il signore ci insegna a seguire il cuore di dio io vedete non mi devo chiedere se sono semplicemente una brava persona faccio questo faccio questo faccio quest'altro mi garba è sufficiente ricordate la storia del pubblicano o signore ti ringrazio diceva il fariseo che non sono come quel pubblicano ma io io pago la decima io prego io osservo io faccio ma la cosa strana è che mentre il pubblicano che era un peccatore stava sdraiato faccia a terra e chiedeva perdono confessando le sue colpe l'altro gonfiava se stesso per ciò che era e faceva quello il pubblicano se ne tornò a casa giustificato perché si era umiliato dinanzi a dio il fariseo se ne andò a casa invece carico delle sue colpe ma il problema qual è che se ne fosse andato semplicemente carico delle sue colpe qualche speranza c'era in lui il problema è che se ne andò carico delle sue colpe ma convinto di essere giusto a causa di quel che faceva e quindi nella condizione di non piegare mai il suo cuore allora il punto qual è questo popolo si gloriava di essere popolo di dio ma non si curava di compiacere dio ora sapete compiacere dio non è una cosa che riguarda una parte della tua vita o un aspetto della tua vita compiacere dio compiacere dio vuol dire aver arreso la tua esistenza a lui vuol dire vivere per lui vuol dire dire a noi stessi se dio vuole sì se dio non vuole no riesco a spiegarmi se è nel volere di dio se compiace dio sì se no no perché fai questa azione perché fai questa scelta il cristiano dovrebbe rispondere sempre senza ombra di dubbio perché questo compiace dio e perché non lo fai perché questo non compiace dio e voglio dirvi qualcosa di più il cristiano dice questo perché ama dio perché la manifestazione dell'amore verso dio per lui ha il valore più grande cos'è la cosa più importante per te tu dovresti rispondere senza neanche pensarci la mia relazione con dio e quanto è importante per te al punto che tutto ciò che può in qualche modo indebolirla offerirla io la rifiuto e tutto ciò che può alimentarla io la abbraccio perché fai così perché amo dio al di sopra di ogni altra cosa con tutte le mie debolezze con tutte le mie fragilità ma amo dio al di sopra di ogni cosa ecco dunque che cos'è essere cristiani vedete questi versi fanno ecco a quello che il signore insegnò Gesù stesso riporta delle parole che anche in questo caso fanno tremare il cuore perché perché il signore ci parla di persone che un giorno giungeranno alla sua presenza e diranno signore non abbiamo noi compiuto opere potenti nel tuo nome non abbiamo noi parlato del tuo nome non abbiamo noi hai udito e ascoltato i tuoi insegnamenti e il signore dirà io non vi ho mai conosciuto ora voi avete idea di che cosa significhi questo? voi avete idea di che cosa significa per quelle persone udire queste parole ci fu un episodio sempre ritornando all'antico testamento al viaggio di israele nel deserto in cui a causa della ribellione di alcuni uomini dio aprì la terra che li inghiottì vivi e poi si richiuse tremenda questa visione ecco udire quelle parole io non vi ho mai conosciute o in altri termini io non mi sono mai compiaciuto in voi vuol dire che la terra si aprirà per inghiottirli per sempre perché per loro non c'è speranza di vita eterna fratelli quando noi seguiamo l'Evangelo noi non seguiamo una religione la vostra presenza sui banchi e anche la mia dietro al pulpito eh io non mi escludo non è sufficiente perché noi abbiamo le porte del cielo aperte quello che serve è che lo spirito di Dio abbia libertà di trasformarti trasformarti ora vedete l'Evangelo non è tanto quello che tu fai per Dio ma è quello che Dio fa in te tu puoi puoi dare il tuo corpo ad essere arso tu puoi dare tutti i tuoi beni ai poveri ma se non hai amore ti vale a qualcosa quindi non è ciò che tu fai ma ciò che Dio fa in te quando tu ti pieghi come il pubblicano e confessi le tue colpe quando tu ti umili e dici sì signore ho vissuto per oltraggiarti e non per compiacerti cambia il mio cuore e la gloria di Dio scende su di te ed è lui che cambia i tuoi pensieri i tuoi sentimenti ed è lo spirito di Dio che si compiace nell'afferrare ciò che è tenebra e trasformarlo in luce ed è lo spirito di Dio che prende ciò che non ha forma per dargli la forma più gloriosa quella di Cristo stesso ed è in questo cammino di comunione con lo spirito di Dio in cui tu ti arrendi all'opera delle sue mani e in cui lui ti trasforma alla sua immagine come egli vuole che tu trovi il compiacimento di Dio perché a quel punto tu non segui più il tuo cuore ma ami il cuore di Dio c'è una caratteristica che ho cercato più volte di insegnarvi e ho preso spunto spesso dalla visione di Isaia ora quando Isaia vede il Signore in questa immagine di Dio non è che lo vede come egli è nessuno può vedere Dio finché è in carne ed ossa ma in questa immagine gloriosa che manifesta la potenza la maestà e la santità di Dio con le creature angeliche che gridano santo 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 e il Signore nel momento in cui ha questa visione da un lato rispetto alla gloria della santità di Dio lui si sente sporco e dice misero me uomo sono perduto perché sono uomo da labbra impure ma l'angelo gli purifica le labbra e allora che cosa fa Isaia quando sente Dio dire chi manderò e chi andrà per noi lui senza pensarci d'impulso con tutto se stesso grida manda me Signore e allora io volevo farvi capire questo cosa c'è in quel manda me c'è il desiderio di Isaia di stare vicino alla gloria di Dio è come se dicesse se mandi me Signore ancora ti dovrai rivelare a me ancora dovrai parlare a me ancora io dovrò trovare comunione con te tu starai vicino a me io starò vicino a te ed è questo quello che bramo di più perché la santità di Dio ci conquista ora nella follia dell'uomo cieco c'è l'idea che ciò che desideri al di fuori di Dio possa darti gioia e raggiungimento di vera vita ma di che stiamo parlando oggi noi ci siamo domani siamo polvere e una cassa ci chiude per farci diventare cibo per i vermi e tu pensi che possa esserci una qualche sicurezza o gioia di vita al di fuori di Dio a questa è pazzia è follia voler prendere in mano la propria vita e gestirla come vogliamo e domani ti svegli ed è l'ultimo tuo giorno di vita e non ti rimane più niente perché ciò che dà certezza è solo in Dio è pazzia vivere la vita indipendentemente da Dio è follia è pazzia è la gente che si ribella a Dio si fa saggia dicendo io sono padrone della mia vita io voglio vivere come dico io ma un giorno giungerai dinanzi a Lui e Dio ti dirà ti ho creato per potermi compiacere in te che ne hai fatto della vita che ti ho dato e quella risposta segnerà il tuo destino eterno allora fratelli ascoltatemi noi siamo qui non per compiacere noi stessi ma per imparare a trovare la massima gioia nel compiacere Dio perché per me la mia massima aspirazione è trovarmi al centro della volontà di Dio e sapere che sto compiacendo Dio allora qualunque sia l'esperienza che vivo quello è il luogo migliore nel quale io possa trovarmi perché se sono al di fuori di questo io ho fallito il bersaglio ho fallito completamente il bersaglio e finirò laddove Dio non vorrebbe che nessuno finisse luogo invece nel quale la maggior parte delle persone finirà larga è la via ed ampia la porta che porta alla perdizione e molti sono quelli che la percorrono stretta è la porta e angusta è la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la percorrono bene io potrò anche essere pazzo per questo mondo ma io dell'opinione del mondo io quello che voglio è che Dio si possa con piacere in me perché Egli è degno perché mi ha creato perché mi mantiene in vita perché provvede per me ogni giorno perché ha dato Cristo Gesù a morire sulla croce per tutti i miei fallimenti e i miei peccati perché mi ha amato e mi ama come nessun altro Egli è degno di essere amato e di ricevere da me una vita in sacrificio vissuta solo per uno scopo con piacerlo perché Egli è degno di ricevere questo dalla mia vita Per quel che mi riguarda insegnerò questo a chiunque a chiunque voglia ascoltarlo perché il giorno in cui incontreranno Dio faccia a faccia non abbiano a tremare perché ascoltano frasi che non avrebbero mai voluto ascoltare ma quanto a noi noi viviamo e lo dico sempre e lo ripeterò fino all'ultimo giorno della mia vita per ascoltare una breve frase fatta di poche parole ben fatto mio fedele servitore del resto non mi interessa perché il resto al di fuori di queste cinque parole non ha valore per me non ne ha io voglio fare solo quello che compiace Dio il resto no perché io sono stato creato sono stato redento per compiacere lui e questo voglio fare perché perché questa è la vita perché questa è la vera gioia nella quale l'uomo può trovare pieno appagamento servire Dio ed amarlo con tutta la mente con tutto il cuore e con tutta l'anima chiniamo il capo in preghiera grazie a tutti Grazie a tutti.